Oh, povero, povero me! La mia gamba preferita si è rovinata irrimediabilmente! Ma un attimo, scordavo di avere il mio magico bastoncino di pesce curativo! Un bastoncino di pesce magico curativo? No, guardate qua, la mia gamba è guarita! Wow, è davvero fantastico! D'accordo, bene, chi ne vuole una? Beh, io non credo di averne bisogno, sai, le mie gambe sono sale! Oh, certo, magari è tutto a posto ora, ma dovresti essere preparato per qualsiasi evenienza! Che cattivo odore, mangiane uno e profumerei di narciso! Di narciso? Io preferirei profumare di lavanda! Oh no, hai letto i giornali? La lavanda non piace a nessuno! I giornali? Deve essere vero, ne prendo una dozzina! Oh no, i giornali dicono che comprarne una dozzina porti sfortuna! Ok, due dozzine! Oh, tre dozzine! Ehi, che cos'hai lì? Oh, sto parlando col mio migliore amico! Oh wow, posso conoscerlo? Ti ho preso! Che cos'è che hai in mano? Sono io! Ne prendo sette! Questi ti faranno ricrescere i capelli! Troverai il calzino che hai perso! Ah, non lo so, piacerai alle ragazze, credo! Le compro tutte! Beh, guardate un po', amici! Posso dire con sicurezza che il nostro lavoro qui è finito! Ehi, ascoltatemi tutti! Non dovete mangiare! Oh, ehi, un bastoncino di pesce! Ehi, sono proprio buoni! Ho bisogno di un acquario grande quanto la mia bambina! Mi... Mi...